Se stai cercando un bel appartamento, magari recente, con due camere da letto, soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato con box doccia, garage doppio, due bei balconi e un soppalco da adibire come studio, palestra, zona relax, beh, rimani con me perché non te ne pentirai. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Siamo in via Filanda Vecchia e qui si trova questo appartamento al terzo ed ultimo piano servito da ascensore con garage doppio al piano interrato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita.